Domenica 10 dicembre al Teatro Manzoni, serata sontuosa con Fio Zanotti, la Superband e l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale a ripercorrere tutta la carriera di questo grande corsocista. Io sono onorato di avervi vicino. No, io sono onorato. Un po' come ringraziati. Ragazzi, vi aspettiamo tutti al Manzoni domenica sera prossima. Ecco uno spartito, uno dei tanti spartiti. Allora, la scaletta è pazzesca, è imperdibile il concerto perché siamo a livelli proprio imponenti. Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.